Siamo alla fine di una giornata impegnativa con i nostri amici giapponesi, che esperienza fantastica quando si viaggia in un paese e non solo si vedono le cose che vedono i turisti ma poi si entra all'interno di una famiglia giapponese, in una casa giapponese, è bellissimo vedere i piccoli rituali, vedere le stanze, è anche faticoso perché si cerca di farsi capire e a volte il problema non è la mancanza di conoscenza della lingua comune, che è sempre la lingua inglese ma sono proprio le diverse usanze, il diverso background culturale che manca da un lato o dall'altro però i nostri amici che ci ospitano sono delle persone deliziose e sono fatti in quattro per farsi capire, per metterci a loro agio, hanno chiamato gli amici che parlano italiano che hanno vissuto in Italia, che hanno fatto le vacanze in Italia e poi hanno preparato questo banchetto incredibile di cose buonissime cucinate da loro naturalmente e hanno apparecchiato la tavola in un modo particolare, con tutti i piatti particolari no, una bellissima esperienza che ti dà proprio, conferma che il valore del viaggio aumenta e viene amplificato quando effettivamente non fai il turista, mordi e fuggi prima prendi il tempo per stare con le persone, vabbè bisogna anche avere la fortuna di conoscere le persone perché non è che si possa viaggiare, bussi alla prima porta che capita e dici fatemi entrare a far parte della vostra famiglia, però quando succede è molto bello e c'è questo grande senso dell'ospitalità e di generosità che per certi versi accomuna la cultura giapponese alla migliore cultura dell'ospitalità italiana dove le cose che ci sono si dividono. La casa dove stiamo è una casa molto bella e si vede che è una casa borghese, molto grande, a due piani, la nostra stanza, quella che ci hanno dato è molto grande, ci hanno naturalmente il tatami, ci hanno dato i futon doppi, ci hanno spiegato che bisogna metterlo orientato verso nord oppure verso est perché questo è il modo in cui si mette il letto e ci hanno poi dato le coperte, è un po' faticoso stare seduti per terra tutto il tempo anche quando si chiacchiera, abbiamo cenato al tavolo però poi abbiamo fatto un gioco di società seduti per terra e quello è stato un po' faticoso non tanto per le genocchie ma per la schiena, però vabbè, va bene così. Bellissima esperienza e domani si continua a Nagoya con i nostri amici.